Allora, innanzitutto non è per piageria ma realmente credo sia il ruolo migliore che tu abbia mai interpretato Ti ringrazio C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente Il personaggio anima tutti quelli che gli stanno intorno Sembra un po' la sua condanna, come se si fosse condannato da solo a fare questo E tu effettivamente poi hai un po' il compito di animare quasi tutte le scene Voglio capire, se questo lo chiedo a te, lo chiederò anche a Valeria Ieramente È una cosa che viene più dal montaggio o ci hai proprio lavorato? Cioè hai lavorato per capire che ogni scena doveva essere trainata da te? Intanto lei è in sceneggiatura Quindi è di scrittura questa cosa Il montaggio penso che abbia lavorato nella stessa direzione della scrittura È della messa in scena E io nella mia interpretazione Diciamo aveva un'idea molto precisa di chi fosse questo personaggio Seppur tuttavia è un personaggio controverso Multitasking, molto sfaccettato Veramente tridimensionale Pieno di contraddizioni Che ha un escursus Cioè fa delle cose che possono anche creare Diciamo Ci possono allontanare Eppure invece In qualche modo Cerca di corrompere lo spettatore Questo personaggio Soprattutto lo vuole corrompere E infrangere il moralismo Dello spettatore Che in quanto spettatore Quindi in quanto in una posizione passiva Diventa ancora più moralista E quindi l'intento E anche per me L'intelligenza Delle autrici Delle autore Valeria in primis E credo sia stato proprio questo E quindi qui Sfondi una porta aperta con me Perché è un tema Che mi interessa molto Hai toccato una cosa molto interessante Devo dire A me non è mai capitato Di parlare con un attore Che mi dicesse Che aveva Cercato di far piacere O non far piacere Il proprio personaggio al pubblico Solitamente la risposta che ricevo È che No, il personaggio è quello che è Poi il pubblico avrà le sue reazioni Volevo capire se invece Visto che poi È un personaggio Che noi tendiamo ad amare Il tuo Anche se come dici Appositamente Ha anche dei lati Che magari Possono dare un po' fastidio Vuoi sapere se invece Tu ci hai lavorato su questo Sei cercato Sì io qua devo farlo piacere Perché è parte del gioco del film No perché questo Questa è una cosa Della quale Che presuppone Una consapevolezza E quindi questo Limiterebbe il lavoro Dell'attore Non si fa così Diciamo Molti fanno così Perché è verità Io non faccio così Io depongo completamente La lascia del giudizio Quando interpreto un personaggio Viaggio dentro al film Non sapendo neanche che scene faccio Di volta in volta Quindi c'è proprio invece io Mi muono in una specie di oblio Meno so meglio è Però so Che film sto facendo Chi è quel personaggio E che cosa E questo avviene tutto A una prima lettura In questo caso Diciamo Valeria Abbiamo parlato mille volte Negli anni Anche di questo soggetto Quindi diciamo Conoscevo la storia In maniera E questo è un plus Perché Diciamo Era come se avessimo Come se avessi Intimamente Senza nemmeno Poterla spiegare Ma comunque Organicamente Introiettato Il senso del film Ci sono tantissimi film In cui un rapporto a due Sia uomo-donna Ma anche uomo-uomo Sono fondamentali Sono il film stesso Immaginate Ti sarà capitato Tantissime volte Questa volta però Mi sembra che abbia Una particolarità In più Perché oltre ad essere Appunto due fratelli Con un rapporto particolare Complicato Siete anche tu E Vadora E' un'altra Due attori Molto diversi Come Nella maniera in cui Si pongono Verso il pubblico E questo pure È importantissimo Nel film La sua Mollezza Diciamo invece Il tuo dinamismo Ecco su questo È una cosa Che come Magari tante altre Che potete lavorare Prima Si lavora prima Di non lo so Immagino Prove Oppure No No Non abbiamo proprio Mai fatto prove Noi Ok Mai 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 È una Sai È un Cioè Io sono più agnostico Nell'approccio Al lavoro Io Io penso Che Le frequenze Sulle quali Uno si trova Non si trova Non so come dirti Cioè Uno ha delle affinità O non ce le ha Anche se i percorsi Sono molto diversi Gli approcci al lavoro Sono diversi Le attitudini Sono diverse Tra me e Valerio Eppure però Abbiamo Invece ci siamo Riconosciuti in scena Essere attratti Dalla stessa musica Ecco